Buonasera cari amiche e cari amici, vado a leggere quello che ha detto oggi il sindaco di Rozzano. Rozzano è un paese nell'Interland milanese dove dovrebbe essere costruito lo stadio dell'Inter. Il tema stadio è un tema caldo, vi ho già detto nel video di oggi che non mi risulta fatto la telefonata di Gerry Cardinale al presidente dell'Inter chiedendo se vogliono stare con noi a San Donato con il rifiuto dell'Inter. Lì non ci ho più visto perché adesso far passare il nostro proprietario come uno che viene qua tira fuori 40 milioni, 40 milioni se lo sono già dimenticati tutti. Tanto 40 milioni sono nulla non solo per i prati di San Francesco dove era costruito lo stadio ma proprio per iniziare tutte le procedure dentro in questi 40 milioni c'è tutti, non c'è solo il prato come io erroneamente avevo detto quando ho parlato di 40 milioni ma ero stato trascinato un po' anche dal fatto che volevo sottolineare che 40 milioni se li metti per fare un rogito non credo che tu voglia così divertirti mettendo questi soldi. Ci sono dei team dietro importanti, c'è Team Romano che è un grande, il più grande costruttore di stadi del mondo, si fanno nomi importanti e far passare tutta questa nostra, questo nostro tentativo che sta procedendo da quello che ho saputo anche parlando con qualcuno a San Donato per cercare di andare fra qualche anno a San Donato con lo stadio nuovo. Io non impazzisco per la location di San Donato, io qua ero comodissimo a San Siro però se il Milan ritiene opportuno e ha detto Gerry Cardinale che con la costruzione dello stadio il Milan potrebbe arrivare ad avvicinare la Premier League, le squadre della Premier League, dopo due giorni leggo questa notizia che Gerry Cardinale che due giorni prima ha detto che vorrebbe avvicinare la Premier League con la costruzione dello stadio chiede gentilmente all'Inter se vogliono stare con noi. Ecco è una cosa che esula da ogni fantasia, a me piacciono molto i finti fantasia, a me è piaciuto molto come d'incanto ma sinceramente questo è veramente troppo perché quando ci fanno passare io ricordo bene quello che dissero quando è arrivato Silvio Berlusconi. Non voglio paragonare certamente Silvio Berlusconi a Gerry Cardinale ma io sto parlando degli inizi perché molti di voi non c'erano. Lo chiamavano sua emittenza ma poi sapete dopo il primo anno come l'hanno chiamato? Sua perdenza. Se ci fossero stati tutti i commenti tutti quelli che sanno chissà cosa avrebbero detto di Silvio Berlusconi. Poi col tempo si sono ricreduti perché abbiamo passati gli anni più belli della storia del Milan e noi siamo stati fortunati perché noi c'eravamo. Ma ricordo le ironie quando sono arrivati gli elicotteri all'arena e le risatine ma questo cosa vuol fare? Vuole cambiare il calcio? Adesso abbiamo un altro imprenditore che ha le sue idee e vedremo. Chiaro che il signor dottor presidente Silvio Berlusconi ha messo soldi veri per prendere grandi giocatori quindi si può sognare in attesa dello stadio ma sei anni in attesa dello stadio e i tifosi del Milan non vanno bene. Quindi difendo queste idee della proprietà. Non voglio pensare che dopo voler costruire lo stadio per riuscire a giungere la Premier League poi arrivano queste notizie che a me non sono state confermate. Qualcuno dice? Eh ma il Milan doveva smentirle. Sapete che cosa ha detto una volta? Io quando parlava Adriano Galliani quando parla Adriano Galliani io ascolto perché io sono umile e ascolto quando parlano dei personaggi autorevoli come Adriano Galliani diceva io non smentisco perché sennò si amplifica la notizia si amplifica la notizia quindi non smentisco quando una notizia è falsa o non è una notizia vera io la lascio là non la smentisco imparate vogliono le smentite così smentisci una notizia l'ha letta in dieci smentisci una notizia che dopo alla fine questa notizia alla gente la smentite non interessa nulla e tutti vanno a vedere la notizia che magari era sfuggita loro era sfuggita loro ecco perché che cosa vuoi smentire una cosa pensare che il Milan vada a chiedere i soldi all'Inter su una capisco costruire insieme rifare San Siro insieme quella aveva una sua logica iniziale una volta che è finita lì andare adesso dopo che ha messo 40 milioni ci aiutate a far lo stadio insieme allora sapete cosa ha detto il sindaco di Rozzano sono parito da lì qui la situazione è che siamo in stand by il Milan ha messo 40 milioni ha messo 40 milioni per iniziare il per per tutto il per per i per i campi per il rogito dei 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 campi di San Francesco per la pezzatura di San Francesco più per far partire tutte le altre operazioni inerenti al nuovo inerenti al nuovo stadio abbiamo provato il PGT all'interno del quale abbiamo previsto la parolina stadio da quel in quell'area il comune quello che doveva farla fatto adesso dico che la palla ce l'ha tre piedi l'Inter dovranno presentare uno studio di fattibilità una proroga o lasciar cadere la prelazione entro il 30 aprile vorrebbe dire che tutto questo è stato un bel discorso ma che non si concretizzerà nelle altre due opzioni significherebbe invece che il percorso per la costruzione dello stadio è avviato Inter Milan due realtà staccate chiede il collega non ho mai parlato con il sindaco di San Donato aprendo la situazione dai giornali e dalle tv non so come stia procedendo a San Donato ho letto che il Milan ha acquistato l'area sembra che abbiano fatti più concreti di qua c'è una semplice per prelazione ecco a dimostrazione questo fatto questo fatto a dimostrazione che ormai il Milan ha avviato la procedura quindi avvia la procedura poi spera che ci sia anche l'Inter insieme intanto avvia la procedura chiaro che il discorso cardinale lo ripeto ancora una volta cardinale non è il presidente Moratti non è Silvio Berlusconi non è tutti i presidenti che tirano fuori l'assegno o Abramovic del Chelsea è un altro modo di intendere i fondi vanno a cercare investitori quando hanno avuto l'idea ha appena comprato adesso la red ha formato la red ben IMI con un investimento di uno un miliardo e 500 milioni le ha tirati fuori cardinale un miliardo ha fatto l'assegno no non si lavora così ripeto non voglio difendere cardinale perché cardinale lo aspetto quando ci sarà da investire importante per far diventare questa squadra ancora più forte non ha escluso di vendere grandi giocatori questo mi dispiacerebbe perché non è la filosofia del Milan bisogna vedere poi come rafforza la squadra con queste vendite per farla ancora più forte il Milan ha perso Donnarumma ha preso Mignan e quindi lì ha dimostrato di rafforzare il Milan il Milan ha perso Tonali il caro Sandro Tonali il nostro Sandro Tonali ma con Loftus Cic con Reinders ha cercato di costruire un Milan poi si può costruire bene si può costruire male ma ha cercato di rafforzare la squadra per renderla più competitiva non c'è riuscita totalmente perché ci mancava un forte nove e poi soprattutto ci manca il centrocampista fisico si parla tanto di equilibrio di Pioli io tendo sempre a difendere l'allenatore del Milan è una mia filosofia piaccia o no vedo che le visualizzazioni aumentano vuol dire che non credo che vengano i follower solo per dire per aspri commenti nei miei confronti tendenzialmente quando parlo con un tifoso del Milan mio amico poi apro anch'io il vaso di Pandora sul mercato su Pioli sulle scelte ma quando sono davanti a voi quando parlo del nostro Milan tendenzialmente io difendo il Milan perché se anch'io vado ad accusare i nostri del Milan trovo che non sia giusto Pioli ha sbagliato a mettere ciao ha sbagliato a mettere questi giocatori dopo otto vittorie dopo sette vittorie e due Parigi sto calmo vediamo come la squadra reagirà a Rennes partita importante sotto quel piano lì oltre sotto sul piano del passaggio del turno voglio vedere quella cosa lì innanzitutto voglio vedere la reazione con l'Atalanta oggi l'impressione è che il Milan possa contare su questi 11 e poi a poco a poco massimo ne metti uno e se possibile al sessantesimo minuto questa è la verità il turnover massiccio e questa squadra non lo può reggere poi per quello che riguarda l'equilibrio è vero abbiamo preso 31 gol ma io vorrei andare a vedere i 31 gol quali sono i figli del mancanza di equilibrio e quali sul proprio sul piano della concentrazione dell'uno contro uno cosa c'entra l'equilibrio quando ciao cerca di effettuare il fallo su Diurici al limite dell'area per poco crea il rigore non faccio in tempo a pensare lì a Monza dio mio abbiamo rischiato il rigore quando l'ho visto precipitare ero sicuro che sarebbe arrivato anche l'altro fallo e così è stato lì equilibrio non equilibrio abbiamo preso dei gol con 5 6 giocatori in area abbiamo preso 31 gol quella cosa con 31 gol non va bene non va assolutamente bene e bisogna in qualche maniera migliorare il 31 gol è una cosa non vinci il campionato l'inter ne ha subiti 12 ed è in testa nettamente il prossimo anno sì il numero 9 sì il numero 9 però dobbiamo costruire una difesa insuperabile con un centrocampo insuperabile bisogna partire da lì continuiamo io per primo io per a parlare del numero 9 ma ci servono i numeri 5 i numeri 6 cioè il difensore centrale e il centrocampista forte che aiuti l'equilibrio della squadra su questo punto non non ci piove su questo punto è la base l'inter in testa alla classifica come tutte quelle in testa alla classifica subendo 12 gol 12 gol noi ne abbiamo presi tre due volte e mezza è lì la differenza quindi chiaro l'equilibrio pioli deve fare meglio è il nostro allenatore poi prossimo allenatore se non ci sarà lui faremo un tifo per lui ma io tifo sempre per il milan lo ripeto ancora una volta difendo tutti proprietà eccetera poi con gli amici mi sfogo ma pensare che il proprietario del milan sia uno con il con il con la que che vada a cercare questo a soci per uno stadio dopo aver messo 40 milioni no leggo le parole del sindaco di rozzano poi andremo a vedere perché come dico sempre io il padrone della verità è uno solo il tempo se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like iscrivetevi al canale youtube di carlo pelle gatti attivate la campanella scaricate il link in descrizione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti